Chiaro, intanto bentornata in campo, ti aspettavamo da un po', questa caviglia ci ha fatto penare, però intanto è bello rivederti in campo. Tu che hai intanto le sensazioni per questa tua partita? Ma anche io sono contenta di essere tornata in campo dopo un lungo stop e sicuramente è stata una partita da alcuni punti di vista difficile perché incontravamo una squadra molto forte, però è stata anche una bella partita, le sensazioni sono state molto belle e molto positive, penso anche da parte di tutte noi. Un Brescia che ha giocato, possiamo dire, ad armi pari contro l'Inter, una buona mezz'ora fino al loro gol del vantaggio che ha un po' chiaramente segnato lo spartiacque della partita, però ecco, come dire, è sicuramente una buona prestazione nel complesso quella che abbiamo offerto questa sera? Sì, sono d'accordo, nel senso che al di là del risultato penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, soprattutto a livello di atteggiamento, di carattere, abbiamo tenuto testa una squadra, come ho detto prima, molto forte e abbiamo dimostrato il nostro valore anche da questo punto di vista. Soprattutto dal punto di vista del pressing è un'ottima prova, soprattutto nel primo tempo? Sì, sì, assolutamente, diciamo che non abbiamo dato modo di creare molte occasioni o comunque abbiamo cercato di contenerle il più possibile e direi che, come hai detto tu, anche dal punto di vista del pressing abbiamo fatto un'ottima prestazione. Adesso un po' di riposo, un po' di allenamenti, torniamo in campo tra una decina di giorni contro il Cesena per riduffarci in campionato, che è quello il nostro vero obiettivo. Sì, esatto, adesso abbiamo un po' di tempo per smaltire, per riposarci un po' e ricaricarci per il prossimo appuntamento, sperando di ritrovare la vittoria anche in campionato e niente, ci alleniamo per questo.